Eccomi i tifosi rosso-blu appassionati dalla Serie C, qui Paul, e sono qui quindi per fare il post-partire della partita appena finita, Ternan a potenza con il risultato di 3-0. La Ternan ha dominato questa partita, prima di cui il marcatore e poi una breve analisi. I marcatori sono stati Partipilo con l'1-0, Boden con il 2-0 e il 3-0 firmato da Falletti. Allora l'1-0 è stata una cavalcata sontuosa di Palumbo, uno dei migliori in campo della Ternan, che poi ha appoggiato per Partipilo che non ha sbagliato. Errore forse della potenza nel far fare una cavalcata dalla propria difesa all'attacco a Palumbo. Poi il secondo gol è stato un errore forse difensivo, dopo una bella respira dei marchegiani dopo angolo della Ternana, e la palla poi si è insaccata con Boden che si è trovato davanti alla porta e non ha sbagliato. Al contrario di quanto fatto da Boldor nel secondo tempo, dopo che Cianci aveva tirato un'ottima punizione, una ribattuta, però purtroppo Boldor non è riuscito a insaccare da pochi metri la palla, colpendo il palo. Poi la partita è andata sempre più calando, con il potenza che non ha più giocato, ha spento proprio l'interruttore in campo, e la Ternana ha continuato a giocare in modo quasi sontuoso con gli ottimi interpreti di gioco che ha fra centrocampo e attacco, e poi con un tocco di mano in aria ha chiuso la partita definitivamente con Falletti che ha tirato un rigore chirurgico perfetto, e Marchegiani non ha potuto fare niente. Questa partita purtroppo è stata giocata male dal potenza, anche se due o tre occasioni a più tempo le avevamo avute non riuscendo a concretizzarle. Speriamo di fare sempre bene, a questa squadra l'abbiamo sempre detto tutti, serve dare tempo perché sono giovani, e quindi l'importante è sostenere sempre questa squadra, e la cosa più importante è sempre Forza Potenza. In descrizione Telegram, Facebook e Instagram, è Potenza Football Club con il quale collaboriamo, per questo video è tutto, Forza Potenza!